Ha fornito false generalità e ha tentato di corrompere i carabinieri che lo hanno fermato. È stato arrestato dai militari della stazione di Caggiano un trentenne dell'Interland napoletano, già noto alle forze dell'ordine. Tutto è partito ieri dalle segnalazioni di alcuni cittadini preoccupati che hanno indicato un'automobile sospetta lungo la strada che collega Caggiano con Polla. L'uomo aveva parcheggiato infatti in località Cangito dove passeggiava con fare sospetto. I carabinieri di Caggiano sono quindi arrivati sul posto per capire chi fosse e cosa stesse facendo. In un primo momento il trentenne ha fornito una falsa identità ai militari. Condotto poi in caserma, i carabinieri lo stavano multando per aver violato le prescrizioni imposte per il contenimento del covid. Trovandoci in zona rossa infatti non avrebbe dovuto spostarsi dal proprio comune di residenza senza una valida motivazione. A quel punto ha provato a dare loro dei soldi per interrompere il controllo, quindi a corrompere i carabinieri che lo hanno così fermato. È passato da una sanzione amministrativa alle manette, ora il trentenne con precedenti penali e in attesa delle procedure di rito che portano alla convalida dell'arresto.